Temo di no, sappiamo abbastanza bene cosa non ha funzionato quell'approccio burocratico iniziale, narcisismo pop di alcuni esperti, l'essenza di una comunicazione a una sola voce, ottorevole e comprensibile. Ma comunque è molto difficile trasmettere al grande pubblico l'incertezza e la complessità intrinseche della scienza e della biologia, il fatto che le cose si modificano nel tempo man mano che acquisiamo nuovi elementi e credo inoltre che per comunicare con efficacia non bastino gli specialisti ma siano necessari anche portatori di altri saperi come psicologi o filosofi e che ci vogliono quelli in grado di farsi capire.